Giornata storica per Vasto Girardi. Si inaugura la nuova struttura sportiva del Ditella. Possato un sintetico di nuova generazione con una tribunetta in cemento, c'è ancora qualcosa da ultimare. Quando sarà possibile ospitare il pubblico, la capienza sarà di mille spettatori. Nuovo impianto situato a circa 1200 metri di altitudine contro il fiuggi di incocciati ai bianchi di Prosperi. E' mancato solo il gol, specialmente nella prima frazione. Due punti persi dai locali contro i laziali che hanno dato il benvenuto all'ex Campobasso Balistreri soltanto 48 ore fa. Dirige il signor Giampietro di Pescara. Poco prima dell'inizio c'è da cucire un buco nella rete di guerra che si prodiga per riparare con l'aiuto di un collaboratore del Vasto Girardi. Partita subito molto viva. Al quinto Molisani vicini al gol con un tiro da fuori di guida che saggia decisamente la reattività di un ottimo Spadini. Un minuto dopo sinistro secco di Fabrizio Melara. Per il fiuggi è presa sicura di guerra. Clamoroso al settimo. Mercai è tanto bravo nell'intercettare il rinvio di Spadini quanto Grossolano nel fallire un gol. La porta sguarnita. L'inizio degli altomolisani è più incisivo rispetto a quello del fiuggi. Al quattordicesimo azione da applausi con guida che effettua un cross basso pericoloso. La girata di Mercai è presa da Spadini. Protesta il fiuggi al sedicesimo per una presunta irregolarità di Guglielmi su Bittai. Il direttore di gara non vede irregolarità. Il Vasto Girardi meriterebbe di passare al ventiseiesimo. Bravo Salatino a tagliarsi uno spazio e a calciare. Tiro contratto in angolo. Si batte il corner imperioso all'elevazione di Pesce con la palla di poco alta sopra la traversa. Fiuggi macchinoso e poco pericoloso almeno fino al ventottesimo quando Melara mette bene in mezzo un pallone che Bittai evanifica facendo fallo ai danni di Guglielmi sulla linea di porta. Il Vasto Girardi mette alle corde i laziali. Trentasettesimo Abile Mercai a crearsi la palla a gol ma la conclusione termina alta. Ancora Alto Molisani con la conclusione di Salatino respinta forse con un braccio da Mazzotti del Fiuggi. Anche qui il direttore di gara non vede falli. Intorno al quarantesimo girata di Ruggieri sugli sviluppi di un corner abilissimo Spadino a sventare. Ancora calcio d'angolo molti dubbi su questo atterramento in area di Moriconi ai danni di Pesce. Qui il signor Giampietro fa correre. Al quarantatresimo arriva il calcio di rigore che viene vanificato dal Vasto Girardi. Mele allarga per Raucci che mette in mezzo esce Spadini commettendo fallo su Mercai. L'arbitro indica il dischetto. Mercai si fa respingere il tiro dagli undici metri da Spadini e poi calcia. Alto sopra la traversa. Grossa occasione per i bianchi. Dal primo della ripresa incocciati inserisce Balistreri in luogo di Bittai e passa un 4-2-3-1. Il Fiuggi continua a sbagliare tanto così come è avvenuto nel primo tempo. Il Vasto Girardi non riesce a sbloccarla. All'undicesimo alta la punizione di Guida. Una delle rare sortite ospiti al diciottesimo con Papa Serio il cui taglio dalla sinistra viene deviato da Melara sull'esterno della rete. Ancora pungente il Vasto Girardi al ventiquattresimo con Mercai che vede con la coda dell'occhio Salatino che calcia alto sopra la traversa. Trentunesimo calcia. Lo stesso Melara per il Fiuggi. Palla deviata a lato. Prosperi fa entrare il classe 2005 Fraraccio e Lorefice al posto di Minchillo e Pesce. Intorno al trentaduesimo spazio nei locali anche a Bruni. Luogo di Raucci sugli scudi. Il portiere laziale Spadini al trentottesimo chiamato in causa da un tiro di guida. Ancora vicini al gol i bianchi di Prosperi comandati quattro minuti di recupero al primo dei quali viene espulso incocciati dalla panchina. Al novantaduesimo prende la mira defilato Basilico che calcia in maniera molto imprecisa. Finisce senza reti al ditella. Tante le recriminazioni da parte del Vasto Girardi mentre il Fiuggi torna a casa con un punto prezioso per la propria classifica.